Domenica Forza 5 per il girone B della Serie D che questo fine settimana ha visto ben quattro gare ricollocate al sabato. Negli anticipi disputati nel pomeriggio del 30 gennaio da segnalare al poker rifilato dal Nibio Noggiono ai danni del Sona 4-1, il successo di misura della capolista Seregno 2-1 sul Villavalle e poi ancora la vittoria del Crema 1-0 sulla Virtus Ciserano Bergamo di Ivan Del Prato che pareva in netta ripresa. Il risultato che tuttavia ci tocca più da vicino è il quinto capo stagionale subito dal Brino sconfitto al Tassara per 2-1 dal Brusaporto. L'undici di Mario Tacchinardi, reduce dal vittorioso derby contro il Franciacorta, disputa una buona partita in termini di occasioni e possesso palla come già visto nelle gare precedenti, ma fatica a finalizzare negli ultimi 20 metri. Un difetto che contro compagini ciniche ed esperte come i bergamaschi di Filippo Carobbio viene pesato sul lago della bilancia. A fare la differenza nell'anticipo è stata infatti innanzitutto l'intuizione di Rodolfi, capace di sorprendere Tota fuori dai pali con una conclusione da oltre 50 metri. Secondariamente ancora una volta si sono rivelati decisivi tiri dal dischetto. La spinta d'Indiur vista dall'arbitro ai danni dell'ex Darfo Galelli fa segnare il 2-0 per il Brusa. Inutile invece ai fini del risultato il sigillo di Libertazzi dagli 11 metri al 92esimo, troppo tardi per la banda Tacchinardi, costretta alla resa in attesa di un imminente tour de force. Sugli altri campi alla domenica successo esterno per il Franciacorta sul campo del Caravaggio 2-1, casatese vincente sul campo dell'Atrizium per 1-0, stesso risultato per lo scanso Rosciate sul terreno del Visnova Giussano. Pareggi infine tra Real Calepina e Desenzano Calvina 0-0 e tra Ponte San Pietro e Fanfulla 2-2. Grazie a tutti.